E rieccoci qua, Mattino RC ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati anche a coloro che hanno appena acceso la radiolina in questo momento. Il Mattino RC, la trasmissione che vi attende dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 13 con Emanuele Ledda, ancora benvenuti. Allora, questa mattina, come già annunciato nei giorni scorsi, nelle puntate precedenti, inauguriamo una rubrica letteraria, facciamo qualcosa di diverso dal solito perché ho il piacere di collaborare con un po' di colleghi, un po' di amici che portano avanti questo discorso e ho il piacere di avere con me un'autrice, nonché la prima ospite di questa rubrica su RCI, sto parlando di Alessia Francone che è collegata qui con noi. Buongiorno Alessia. No, grazie per avermi accolta in trasmissione. Grazie a te, intanto grazie a te per esserti liberata e per concederci questo piccolo break, questa piccola intervista. Allora, tu sei un'autrice, quindi da quanti anni fai questo lavoro? Sì, in realtà ho pubblicato i libri a partire dal 2016, quindi ho iniziato questa avventura da due o tre anni. Quindi tu sei giovane, la voce sembra una voce molto giovane, quanti anni hai? Se possiamo saperlo, eh? Sono dell'85, quindi ho 34 anni. Sei giovanissima, perfetto così. Ascolta, di quale libro ci parlerai questa mattina? Allora, stamattina vi parlerò della mia saga fantasy, quindi in realtà non è un libro, ma sono tre libri e poi in realtà saranno quattro. Quindi la saga finale sarà formata da quattro libri. Sì. Si tratta di un ciclo fantasy, che si chiama il ciclo di Reinkar, perché Reinkar è il mondo immaginario in cui è ambientata. Come si chiama? Reinkar? Reinkar, sì. Ah, ok. Magari ci spieghi anche come ti è venuto in mente questo nome. Sì, va bene. Si tratta appunto quindi di un ciclo costituito da quattro libri. Il primo si intitola La Maga di Reinkar, che presenta la protagonista, che è appunto una maga, e quelli successivi sono invece dedicati ad altri filoni, se vogliamo così dire, ad altri temi, che sono i nemici di Reinkar, quindi gli antagonisti, i segreti di Reinkar, quindi i misteri, i trabocchetti, questo tipo di ingredienti, e l'ultimo si intitolerà Ai confini di Reinkar e quindi sarà ambientato in uno spazio esterno, diciamo, rispetto al regno che dà il nome alla saga. Il nome in realtà di questa saga Reinkar è nato in modo piuttosto casuale, voleva un nome volutamente esotico, che suggerisse comunque un regno immaginario posto al di là dello spazio e del tempo, e quindi ho provato a assemblare diverse lettere o parti di parole che dessero appunto questo tipo di effetto che volevo ottenere. Bellissimo, certo che credo che sia un lavoraccio, oltre a scrivere appunto la trama, comunque il libro in sé, anche andare alla ricerca di queste cose particolari, anche perché poi devono rimanere in testa le persone di chi legge, e poi tutto ruota attorno anche al nome di ciò che si scrive, quindi è un lavoro veramente importante e complimenti, è un nome veramente anche, che veramente fa pensare a quello che hai detto, quindi è un posto immaginario veramente, sì, che sa di fantasia, di, come si dice, di esotico, come appunto dicevi tu. Ma oltre a questo, oltre quindi al genere fantasy, ti occupi anche di altri libri, di spazi anche in altri generi? Al momento no, non come autrice, come lettrice sì, sono una lettrice assolutamente onnivora, quindi amo soprattutto la letteratura d'evasione, quindi ovviamente il fantasy, ma anche il giallo, il thriller, il gotico volendo, l'avventura, quindi, ma al di là di questo sono una lettrice onnivora, leggo, leggo di tutto, l'unico genere che non amo molto, che non leggo è il romance rosa. Come autrice no, al momento mi sono misurata solo con il fantasy, ma in futuro chissà, non mi dispiacerebbe misurarmi magari con altri generi, ad esempio il giallo, oppure volendo anche uno storico. Bellissimo, complimenti, sì, chi conosce il futuro, non nessuno, bisogna solo aspettare. So che tu sei, fai parte della, insomma, collabori con il collettivo scrittori uniti, e quindi sei, insomma, impegnata in giro per le fiere, volevo sapere quali sono le prossime fiere a cui prenderai parte, e magari se ci spieghi anche di che si tratta appunto questo gruppo, il collettivo scrittori uniti. Sì, collaboro effettivamente già da un po' di tempo con il collettivo scrittori uniti, si tratta di un gruppo di scrittori per l'appunto che collabora, quindi unisce le forze per promuovere i propri libri, soprattutto per partecipare alle fiere letterarie in giro per l'Italia, dividendo le spese e poi partecipando attivamente alla fiera in qualità di commessi durante le fiere, tutti gli autori vendono i libri di tutti, ed è proprio questo, secondo me, lo spirito e la forza di questa iniziativa. Si conoscono colleghi, si imparano nuove cose, perché io personalmente ho imparato tantissimo dall'esperienza con il CSU, sia come umanamente, ma proprio anche come autrice. Le prossime fiere a cui parteciperò quest'autunno con il CSU saranno di Brimbaia, che si svolgerà a Sestilevante, il 12 e il 13 ottobre, quindi sarà la prima volta per me che partecipo all'Ibrimbaia, quindi mi interessa, mi incuriosisce molto anche per la location che sicuramente è bellissima e poi ci sarà il Pisa Book Festival, che si svolgerà ovviamente a Pisa dal 7 al 10 novembre. Questa è una fiera già grande, importante e sicuramente sarà molto stimolante dal punto di vista dello stand, dell'attività in stand e oltretutto a questa fiera avrò l'onore e l'onere di essere responsabile di stand il venerdì e il sabato, quindi ovviamente ringrazio fin da ora il direttivo CSU che mi ha concesso questa enorme fiducia rispetto a questo incarico che cercherò di portare ovviamente al termine, al meglio di quello che so fare. Va bene, bellissimo, complimenti e in bocca al lupo anche per le prossime quindi fiere che andrai a fare con loro, tra l'altro colgo anche l'occasione per salutare a Claudio che conosco molto bene, quindi che fa parte sicuramente del direttivo, del collettivo Scrittori Uniti. E ti ringrazio per averci dedicato questi minuti, spero sicuramente avremo modo anche di sentirci più avanti per altri libri, per altre iniziative. Quindi grazie Alessia e ti auguro una...